E adesso andiamo a farci il bagnetto, sono circa le 4-5 del pomeriggio, Boracay, White Beach, Stazione 2, guardate che mare, non è male, trovarsi qui non è roba da tutti, è un vero spettaggio, vi faccio vedere un po', guardate che ha, attenzione, eccola qua, White Beach, alle 5, 4 e mezza del pomeriggio, io sono lì, scassato lì, il mio piedino, il sole sta calando, qui ci sono dei tramonti incredibili, eccola qua, poi ci sono tutte le giapponesine che girano, le coreane, sono un sacco di persone, soprattutto orientali, australiani anche, americani, ed eccoci qua. Cari amici miei, cari viaggiatori, un caro saluto da White Beach, Boracay. Grazie.